Minacciato con un coltello dopo aver sorpreso il ladro che cercava di rubargli la bici, è successo sabato notte al portello. Un trentenne di origini marocchine che stava trascorrendo la sua serata nella zona universitaria ha notato un uomo avvicinarsi alla sua bicicletta, salirci in sella e velocemente allontanarsi. Ha quindi seguito il ladro riuscendo a bloccarlo. L'uomo, un tenusino di 40 anni con diversi precedenti, l'ha spinto e per fuggire gli ha mostrato con fare minaccioso un coltello che teneva in tasca. Il trentenne ha quindi chiamato la polizia che giunta sul posto con una volante ha subito rintracciato il ladro recuperando la bicicletta. Fermato e arrestato, il ladro è stato processato per direttissima. Accertato che era anche irregolare in Italia, è stato accompagnato al centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Sonzo per essere espulso come disposto dal prefetto di Padova, Raffaele Grassi.